ciao carissimi ci andiamo a registrarmi? sì 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 siamo in registrazione ciao caro che di scioglio mi piace venire battagliamo se allora vogliamo non c'è nessuno che in questi anni si è preoccupato di verificare la qualità della mia moglie ora ci vanno ciao bella ciao Ciro ciao caro stiamo sempre battagliamo se ciao bella ma state da molto? io dalle 3 può essere diminuita la gente no 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 sto un po' registrando sto un po' registrando e sto in registrazione e che registri stanno parlando? sono stanno parlando con il satiricente stiamo parlando ci stanno parlando vogliamo gridare vogliamo gridare vogliamo gridare vogliamo gridare vogliamo gridare aspetta che mi prendo un po' stanno parlando che prima facevano continuano a principi lo stipendio da docente cioè io che faccio il mio lavoro che guadagno mille euro al mese un lavoro che in un qualunque altro ufficio potrebbe essere l'asoli il comune è molto più qualificato e valorizzato no io sono legata ancora a un lavoro dove per poter accedere una volta bastava di fare di tarda media adesso non è più così questo non è e quindi voglio dire chiediamo anche cioè una qualificazione un lavoro come nostro non è consapevole grazie grazie come diceva il collega docente questa legge è incostituzionale lo stesso Mattarella non la doveva promulgare quindi ha fatto il discorso dei precari di serie A serie B e serie C serie A sono quelli che hanno fatto le domande e hanno sbagliato serie B quelli che hanno conseguito il TFA il PAS dopo aver studiato e si trovano fuori addirittura quelli della scuola primaria che hanno dato l'abilitazione che hanno conseguito il diploma il 2001 e la terza fascia cosa ha servito perché l'hanno fatta perché questa gente ha retto la scuola per le supplenze breve e santuari allora noi vogliamo il rispetto perché la scuola è di tutti è la scuola della famiglia e vogliamo che non mettono più mani nella scuola perché la scuola si deve conoscere si deve dare adito alla didattica si deve dare credito alle persone che lavorano e che continuano a portare avanti questo processo educativo grazie ciao bella risolto come hai fatto quel computer si 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 sei presentato con niente scopo di me anche perché comunque diciamo stanno girando comunque di frequente nel momento in cui tieni c'hai il blocco ma devi scendere pure ma devi scendere pure che viene una cosa se tu mi fai non studiare sono impegnato non è che stanno iniziando si sembra più benissimo vieni siete voi siete voi rite sono facendo a lavorare come quando hanno visto tutti gli attivisti stiamo qui svolgendo il sit-in tutti gli attivisti di momento 5 Stelle si stanno ancora impegnando mettendoci la faccia in una battaglia che interessa tutti i livelli nazionali, regioni e locali noi siamo qui sempre e comunque e ringrazio tutti gli attisti che vengono a sostenirci a noi che siamo in consiglio regionale non ci fanno sentire solo e non ci faranno mai sentire solo grazie davvero noi facciamo ma io mi approfio credibile quando vado noi ci vediamo se ne faremo sentire mai tutti questi qua che ti vedono questa cosa ebbè se casomai ti sentirei come mai